Musica Ma bentrovati soprattutto dopo un fine settimana Ma soprattutto dopo il primo maggio Festa dedicata ai lavoratori A me, a me Io gioiavo che non festeggia e quant'avevo che non escevo Comunque andiamo avanti Oh mia signora mimma io avevo ragione Però la vera verità Ma non ce l'ho chiesto mai No, la vera verità è che chiede con la mia Stanno tanto aumentando E secondo me questa festa non resta rafforzato più Beh, vero, vero Ecco signora mimma Non la festeggiamo più Lei a ieri quanto manciavo, quanto rosto io Ma mi sono addubbata signor Villa Mi sono addubbata Quei quattro notini di salsiccia Poi ho mangiato qualche due costolette Di castrato Poi Che stava dando? Se mi stia apposto Non ha l'unico Lei ha l'occhio pesante No, ma che si mise da? Signora mimma I grembrioli No, quelle grembrioli Si mise da o santino Io santino? Si a cumise da Ma signora Lei rappresenta Il peggio di questa città Signora Villa Lei non deve sbagliare a parlare No, è così Lei sale sul carro dei vincitori Signora Villa Lei è come a tutti i kid di Messina Come a molti Cioè lei fino a ieri Si stava ammazzando con Mariella Ha boicottato Anzuttato E se chissà pensavo a di unchiata Che facevo? La verità La verità è Mariella Che tu lo sai Io ti ho avuto sempre qui Qui in questo posticino Nel mio cuore Vota Antonio Vota Mariella Vota Mariella Va bene Volevo cominciare 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 E poi lei non dica queste cose brutte Che io e Mariella ci siamo sempre volute bene E lo sanno A mezza volta Lo sanno Lo sanno Vota Mariella Vota Mariella Va bene Andiamo avanti Ora che stiamo a fare? Il telegiornale Lo dobbiamo fare E facciamo E facciamo Velo dica ai nostri amici Che io ho questa voce di rappareggia Perché ho questo problemino Che Ti mandano a Mamaria E a giugno forse Lo risolvo A giugno A fine giugno Dobbiamo far operare la signora mia Un attimino Non vi preoccupare Un attimino Non vi preoccupare Non sarà un taglia stamanera Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Come vogliamo iniziare Lei ha bisogno di sapere qualcosa? Sì signor Villari Lei a me mi ha abituato Che io devo sapere Il punto Il punto Il punto voglio sapere Il punto signora Mimma è questo Che il 4 marzo Come si è saputo Ci sono state le votazioni A livello nazionale Dopo tanti anni Dopo tanti Dopo re Giorgio Quarto Quinto Sesto e settimo Vari governi Sincero Signora Mimma Ogni volta Parla dai Dai Fleaston Parla Signora Mimma Ma c'è un'ultima volta Che votammo Era di Fleaston Ecco per questo Io stavo chiedendo lontano Però morale della fauna Pensavamo che si potesse Giungere alla soluzione Per creare un governo E ci siamo Ci siamo Mamma Fausa Mamma Fausa Pensano di ritornare A fare nuove elezioni Ovviamente Indipendentemente Da chi abbia avuto Un risultato migliore Non si è bannente Io non capisco una cosa Signora Pialè me lo deve spiegare Perché lei lo sa Io sono ignorante Io voglio capire una cosa Ma che noi andiamo a votare E poi sono sempre I due che decidono E fanno Chi due che vanno Che andiamo a fare Ecco questo Non si è capito Hanno fatto una legge Elettorale Infame Infame Che non serve a niente Non serve a nessuno Ammogliate le bambole Comunque prima o poi La gente bariorava la casa Come i nini Non c'è dubbio Come i nini Che ne stiamo sediando Poi una cosa Io non voglio difendere Il Movimento 5 Stelle No no Manco io Le Iene hanno fatto vedere Un servizio Manco io Manco Buccao Mariela Ecco Buccao Mariela Hanno fatto vedere Un servizio Sul Presidente Figo Sembra che non abbia messo in regola In regola Una colpa L'ho sentito L'ho sentito L'ho sentito Sicuramente è vero Caro Presidente Figo Sarebbe meglio Che lei regolizzasse Non è potente muovare L'IPS Non è potente muovare Certo le Iene Ovviamente Si se dedicassero Voglio dire Anche a qualche servizio Nei confronti De Silvio Berlusconi Non sarebbe Manco male Che sono bravissime Le Iene Però voglio dire A stapanere Manco Il suo principale Ce ne sarebbe Parare Ma le Iene Prima o poi Andranno a passare A Caimessina Andranno Venite Venite Ad al signor Villa Allora Vogliamo incominciare Col primo servizio Andiamo Allora Primo servizio Primo servizio Dove lo prendo Il primo servizio La data delle elezioni Si avvicina E gli attacchi Tra i candidati Alla poltrona di sindaco Si fanno sempre più feroci Servizio di Elisabetta Raffa Il 10 giugno Si avvicina E a Messina Iniziato il tutti contro tutti A dare in là Il parlamentare Arse Di Sicilia Vera Cateno De Luca Candidato alla poltrona di sindaco Forte anche L'è successo ottenuto Con i propri emendamenti In commissione bilancio Grazie ai quali Si otterrà il Sinaula Arriveranno a Messina A 150 milioni di euro De Luca Non le manda a dire I colleghi messinesi Valentina Zaffarana E Antonio De Luca Del Movimento 5 Stelle E Franco De Domenico Del PD Accusati senza mezzi termini Di aver cercato Di impedire Che passassero Alcuni dei suoi provvedimenti Solo perché a proporgli era lui Rispetto poi Al patto con il candidato Del centrodestra Dino Bramanti De Luca dichiara Che quello fatto Alcune settimane fa È ancora valido Molto più diretta L'unica donna A candidarsi come primo cittadino Emilia Barrile Che punta il dito Contro il sindacusciente Renato Accorinti Reo di dare troppo spesso Forfè all'ultimo minuto Quando si tratta Di confrontarsi pubblicamente Con chi li contende Il posto a Palazzo Zanca Mi sembra un comportamento Scorretto verso la città E verso gli altri candidati Dichiara la Barrile Una mancanza di rispetto Che però testimonia La grande coerenza di Accorinti È il medesimo atteggiamento Tenuto verso l'aula consigliare Quindi verso la città Durante tutto l'arco Del suo mandato Intanto domani Si presenta ufficialmente Il candidato dei 5 Stelle Il dirigente regionale Gaetano Sciacca Attualmente responsabile Dell'ispettorato del lavoro Sciacca pesca Nello stesso bacino Di voti di Accorinti E la loro Anche se i pronostici Non sono favorevoli Per nessuno dei due Sarà davvero una sfida All'ultimo voto Signora a me Ma se stanno ammazzando Si insultano Dalla mattina Alla sera Ma manchi stamanera Ma davvero Ci vuole la competizione Ma manca stamanera Ma manchi stamanera Va bene Però sicuramente Possiamo dire una cosa Abbiamo mandato La nostra Federica Zaccone Ah una se ne andavo Federica No no Non c'è un modo di dire Non c'è un modo di dire Non c'è un modo di dire Stai calma Signora a me Abbiamo mandato La nostra Federica Zaccone Per capire I figlioli universitari Che ne pensano Di questo prossimo sindaco Ah un piccista No Federica Servizio Tra chi non se la sente E chi non ne sa nulla Alcuni studenti messinesi Ce ne hanno raccontato La loro opinione Sui definitivi candidati a sindaco Tu sai Chi saranno i nuovi candidati a sindaco Sì Tutti? No non tutti Qualcuno Ti sei fatto qualche idea? Sì Quale? Non posso dirle Il mio voto è No no Se ti possono sembrare adeguati Almeno uno di loro Sì qualcuno Qualcuno mi sono ritrovato Nelle sue idee Comunque nei suoi ideali Anche perché Adesso sono entrato All'università Mi sono Un po' fatto un'idea Comunque di come sarà La mia vita Da adulto Perché ancora non mi posso definire tale Quindi sto vedendo Insomma Da come si può vedere in giro Non c'è Non c'è più nulla Insomma per i ragazzi Di reale E di concreto Io spero che comunque Con queste nuove elezioni Qualcosa si possa creare Sai chi saranno i nuovi candidati a sindaco Qualcuno Qualcuno sì Ad esempio? Bramanti A Corinti E poi c'è Cateno De Luca Grande Cateno Mitico Io voto lui Ti stavo giusto per chiedere Per chi aveva intenzione di votare Per Cateno E Togo Su Facebook mi piace Solo perché Togo O per qualche altro motivo? No per chi mi piace sopra Facebook Solo quello? Sì Nei social è molto attivo E non è importante che sia anche attivo per Messina? Sì Infatti lo è Ma quello passa in secondo piano? Sì Sì Ma questo figliolo vuole votare Ma ragazzi Quali sono le caratteristiche che sceglie? Così fai tu ragazzo Così fai Perché Togo Togo Va bene Noi abbiamo bisogno di un sindaco per la città Un sindaco che riesca a prendersi le responsabilità di questa città Però se a te ti piace Se a te ti piace tu odio Speriamo che sono Adottalo pure Quelli come a te che lo votano per questo motivo Dico poi Che bocca al lupo pure a Cateno Però che uno viene votato perché è Togo È Togo Non si può sentire Allora io e la signora Mimma Quando adesso ci candidiamo pure noi al sindaco Aspettate Per una città a menza botta State calmi State calmi Stiamo arrivando Stiamo arrivando Stiamo arrivando piano piano Siamo approfittati perché non hai buci Ah bu Appena potevo fare buci Mi facciamo scappare Un attimo Andiamo avanti Andiamo avanti Che cosa c'è Abbiamo finito Ecco ora signora Vado a parlare di manciare Ah pronta 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 Dobbiamo parlare di cibo Nei confronti di piccirilli Dobbiamo parlare delle menze scolastiche Ahimè Ahimè E perciò Io vado col cappello Mi stai facendo scasare un cuore Eh sì signora Devo andare col cappello Vada 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 col cappello Vada col cappello Da due anni Gli anni Ricomincio Da due anni Gli alunni delle scuole Con il tempo pieno Sono senza menza I problemi Sono iniziati subito Dopo l'insediamento Dell'amministrazione a Corinti Che sono adesso In chiusura di mandato E dopo anni di promesse Non mantenute E riuscirà a reperire Le somme necessarie Per garantire Il servizio A voi Con Buzanca E persino Col commissario Straordinario Croce I bambini a scuola Avevano la mensa Arriva a Corinti Si insiede alla sua giunta E saltano i pranzi A scuola Che succede? Assolutamente vero È un fatto paradossale Che da questo punto di vista Il servizio di riflessione scolastica Nonostante le mille difficoltà E i disagi Che il comune di Messina Ha sempre avuto Anche durante la gestione commissariale Ha avuto la possibilità Di avere un seguito Il servizio Ha subito piccole interruzioni Ma in un modo o nell'altro Ha continuato a funzionare Fino a quando poi Con l'aggiunto a Corinti Oggettivamente abbiamo avuto Diversi problemi Nella gestione del servizio Di riflessione scolastica Fino a contare Sei interruzioni Medio-brevi Fino all'ultima interruzione Quella di maggio 2016 Che praticamente Ha interrotto il servizio Di riflessione scolastica Fino alla data odierna Quindi è da due anni Che gli alunni Delle scuole Che prima avevano La riflessione scolastica Devono portarsi Qualcosa da casa Devono portarsi Qualcosa da casa Alcuni e chi può Chi ha avuto Modo di organizzarsi In maniera differente Immagino Diversi dirigenti scolastici Hanno attivato convenzioni Con panifici Con rossiccerie Con l'istituto Antonello In qualche modo Per sopperire Al tempo pieno E per garantire In qualche modo La possibilità Di poter far rimanere Gli alunni A scuola In assenza Naturalmente Del servizio Di riflessione scolastica Questo ha prodotto Disaggiti In un poco conto Perché innanzitutto Sulla qualità Del cibo Che questi bambini Hanno avuto La possibilità Di consumare A scuola E in secondo luogo Anche le differenze Che si sono venute A creare All'interno Delle stesse classi Perché naturalmente Chi aveva la possibilità Dava Ai propri figli La possibilità Appunto Di mangiare In maniera Quasi decente E quindi Con un primo Con un secondo O quant'altro Chi questa possibilità Non lo aveva E' stato costretto A contentare I propri figli Con poco Con panini Con pizzette Naturalmente Creando differenze Anche all'interno Di un luogo Che queste differenze Dovrebbe abbatterle A me non mangiano A me non mangiano A me non mangiano Sti picceridi Ma ce ne siamo accorti Che c'erano problemi Perché sti picceridi Rua ruca panza Tanta E anche voi I picceridi Dopo sei minuto Da scuola Erano A stamane Tutti smanciati 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 Tutti smanciati E' macciati E' macciati Come chi è Eventualmente Smanciati A vinci I picceridi E' macciati Meno male che voglio dire Rua amo voglio dire Improssimilata dell'estate Camenza Così ora si ripichino Così si ripichino Così avranno Un'estate Come dire Al meglio Al meglio A Fonemmo Andiamo avanti Andiamo avanti No signora Come andiamo avanti Tre servizi Abbiamo finito No signora Ce ne sono altri due Ne stiamo facendo Tutto uno Sì signora Abbiamo avuto un cambio Che nicchina Che no Noi lo sa Che dobbiamo Cinque servizi Sì sì Noi dobbiamo sperimentare cose nuove Possiamo andare avanti Ma lei lo fa apposta Per chi sa Perché io non ho usci Non mi vuole fare lavorare Signora Mi vuole muta No io non è che la voglio muta Signora Ma però voglio dire Lei non può parare Io non saccio leggere Ma andiamo i servizi Ma andiamo i servizi Perché si dica Quello che mi dico C'è il quarto C'è il quarto servizio Ce la possiamo fare Leggo Vada vada Se sono capace Vada vada La liberalizzazione Nel settore del commercio La liberalizzazione Eh bravo bravo La liberalizzazione Signora Mimma La liberalizzazione Nel settore del commercio Nei festivi Voluta dal governo Monti Non ha sortito Gli effetti sperati In termini di incremento Dei consumi E dell'occupazione I lavoratori I lavoratori dicono Basta E vendicano il diritto A stare con le proprie famiglie La domenica E nei giorni di festa Ragioniamo Servizio di Elisabetta Raffa Forza dottoressa Tutto iniziato Con il governo Monti Quando fu varata Una legge Che consentiva Di tenere i negozi Aperti 24 ore su 24 Per 365 giorni L'anno L'obiettivo era Quello di incrementare I consumi E di creare Nuovi posti di lavoro Ma dopo oltre Cinque anni Il bilancio È fallimentare In tutta Italia Anche Messina Ha subito Le conseguenze Di questa scelta I piccoli esercizi Commerciali Che sono L'80% Del totale Nei quali Le organizzazioni Sindacali Raccolgono Pochi iscritti Denunciando Il timore Dei lavoratori Di esporsi In caso Di mancato Rispetto Del contratto Hanno rinunciato Da tempo All'apertura Domenicale O nei giorni Festivi Le uniche A poterselo Permettere Sono le grandi Catene E le multinazionali Resta comunque Il fatto Come denunciano Da tempo CGL Cisleville Che il prezzo Pagato Da questi Lavoratori È altissimo In termini Di qualità Della vita Da qui La decisione Di sindacati Confederali Forti anche Di diverse Non feriali Deve essere Una scelta Del dipendente Non un obbligo Di lanciare Quattro giorni Di proteste Lunedì di Pasqua Il 25 aprile L'1 maggio E il 2 giugno Le prime tre manifestazioni Hanno ottenuto De buoni risultati In termini di adesione Ma come ha sottolineato Una lavoratrice Durante la protesta Ci obbligano a lavorare Perché la gente Viene in negozio Nei centri commerciali Se non lo facessero Noi non saremmo obbligati A stare lontano Dalle nostre famiglie Perché è vero Che guadagniamo di più Ma il tempo passato Lontano Dei nostri figli E dei nostri cari Non ce lo restituirà Nessuno Ma certo Signora Mimma In effetti Dico Io faria Una proposta Eh Faccia Faccia Ci sono tutti Sti gran supermercati Oh Ne fanno Te giorni festivi Si mettono Fanno un turno Sì Uno da zona notte Uno al centro E uno a sud Certo Giusto Giusto Così voglio dire Fanno come fanno Te spedate Aspettami Ma io non mi cattivo Tu cuore Ma io non mi cattivo Tu cuore Ma io ho un bello pezzo Non è vero Nel mio cuore Comunque signor Villari La sua proposta Dico Non è malaccia Io sono di un altro avviso Invece Ora dico Che nic e nacchennocchi Che questi poveri Disgraziati Commessi Debbano lavorare Il primo maggio Il giro dei lavoratori Poi lo dico Da che mondo è il mondo Il primo maggio Ne facevamo scampagnate Ne facevamo giti Siamo in una gite Fuoriporta Arrustri Perché questi poverazzi Devono lavorare Aspista Non va potete fare Prima Ma signor Ma ci fate Un gruppo Non ce la posso fare Andiamo avanti Quinto servizio Di Cristina Brancato Situazione di degrado Nei pressi Del Viale Regina Elena Tutto liceo Sì sì Bravo Bravo Servizio Sterpaie Immondizia Cattivo odore E pavimentazione Distestata Uno scenario Che lascia trasparire Il totale abbandono Di una delle aree libere Della nostra città Siamo sul Viale Regina Elena Dove ogni cittadino Potrebbe soffrire Dello spiazzo Per sostare Ripararsi dal sole E godersi La piacevole vista mare Purtroppo Le condizioni Di questo spazio Lo impediscono E sono Un vergognoso sintomo Di inciviltà E non curanza Non si può certo Lodare La pubblica amministrazione Per questo disastro Che non è un caso isolato Ma l'ennesima dimostrazione Di quanto poco rispetto Ci sia Nei confronti Della città E dei cittadini Questo verde Che ci arriva Tra tutte Veramente Veramente Che ci immoglia Che ci immoglia Non c'è bisogno Che si stuaga da sopra Per favore Sì L'abbiamo fatto Questo spillo Però sempre che tocca Sì Tocco Non è via Che fare Abbiamo finito Abbiamo finito Mi signor Non ce la faccio più Sono Esausta 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 Perciò Ti possiamo salutare I nostri amici Ti possiamo salutare Oggi sono un pochettino Sottotono No no E' la lingua E' la ventiera Dobbiamo ricordare Un figliulello Ora non parliamo di cose serie Ecco Non mi deve prendere così Perché io faccio la buffona E in questi contesti Sta a recuperare Come so recuperare Per cui Facciamo Facciamo questa cosa Un po' limitata Allora Purtroppo La città di Messina In questi ultimi giorni Ha subito una grande tragedia Morì un figliuletto Sì E ovviamente Insomma I figliuletti Non essere mai morti Mai Queste sono le disgrazie Più grandi L'unica cosa Che noi possiamo Pensare Che Dio Ha chiamato a sé Un altro angelo Un altro fiore bellissimo Un altro Ecco Lei è d'accordo con me Signora Mimma? Eh sì Purtroppo Devo essere d'accordo con lei Non ci sono altre Non ci sono altre spiegazioni Perciò noi Tutta la redazione Di tutto modo Si avvicina Con un abbraccio Alla famiglia Fiorino Soprattutto Al nostro amico Tony E noi ci vediamo Domani Alla famiglia Grazie a tutti.